Sconcerto e incredulità a Teglio, dove questa mattina alle 8 davanti all'ingresso del cimitero sono state rinvenute due scatole con all'interno sette cuccioli di cane, verosimilmente incroci di razza pastore australiano, abbandonati al freddo e al gelo, probabilmente durante la notte. Ad accorgersene il netturbino che immediatamente ha avvisato l'amministrazione comunale, i cagnolini di circa due o tre mesi sono stati costuditi al caldo in comune per essere poi consegnati al canile consortile provinciale. Una vicenda sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per identificare chi abbia abbandonato gli animali. Non si esclude l'ipotesi che i cuccioli vengano da lontano e facciano parte di un traffico di animali non andato a buon fine provenienti dai paesi dell'est Europa. Ovviamente al momento solo ipotesi sulle quali proseguono le verifiche. Vero è che in ogni caso l'abbandono e il maltrattamento di animali sono reati penali perseguibili per legge. Unica nota positiva di questa triste vicenda, mentre i cuccioli erano in custodia in comune, due persone hanno manifestato la volontà di adottarli, tutti gli altri aspettano un padrone al canile.